Il cantante di origini albanese ha annunciato di dover stoppare i suoi live a causa di un brutto gonfiore di viso e testa. Ermal Meta ha problemi di salute ed è costretto ad annullare i concerti. Il cantante di origini albanese ha annunciato a tutti di non stare bene e di dover sospendere le sue prossime performance live dove era atteso come il concerto al Gifoni Film Festival e quello peschici in Puglia a causa di alcuni sintomi piuttosto gravi comparsi sul suo viso da diversi giorni. Il cantante di Non mi avete fatto niente, ha mostrato il suo viso deturpato dal gonfiore nelle sue ultime stories su Instagram ed è apparso irriconoscibile spaventando i suoi fan che si sono subito preoccupati per lui. A dare qualche notizia sul suo attuale stato di salute è lo stesso Ermal che, sempre attraverso i social, ha dichiarato di avere questo grande gonfiore in diverse parti del viso e della testa da diversi giorni e di essersi svegliato peggio del solito al punto da non poter più ignorare i sintomi. Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa ha rivelato Ermal Metta da prima credevo si potesse trattare di un colpo d'aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito stamattina idem. A mal in cuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di peschici e del Gifoni. Metta ha poi dichiarato, infine, di volere andare a fondo della questione per scoprire cosa gli sta provocando questi sintomi e risolvere al più presto la situazione per tornare a cantare sui palchi ma, soprattutto, a stare bene.